Ben ritrovati con l'informazione di TV Oggi Salerno. Dopo 20 anni di incomprensibile e probabilmente colpevole assenza, riapre a Ponte Cagnano la Guardia Medica. Riapre e potrà contare nuovamente sul servizio di Guardia Medica il Comune Picentino dalle 20 della sera fino alle 8 del mattino, nei giorni festivi e prefestivi, ma anche nel weekend. Il presidio in pieno centro cittadino a Piazza Centola sarà inaugurato il 25 gennaio prossimo dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dopo 20 anni di assenza torna la Guardia Medica a Ponte Cagnano. Dal 1 febbraio prossimo i 30.000 cittadini del Comune Picentino potranno avvalersi del servizio che mancava a Ponte Cagnano dal 1999. Il 25 gennaio prossimo è previsto intanto il fatidico taglio del nastro in Piazza Centola, sede della nuova Guardia Medica a Ponte Cagnano, alla presenza del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Stamani sono stati spiegati nel dettaglio e con orgoglio i dati e i numeri dell'operazione portati avanti con tenacia dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara. Il servizio di Guardia Medica coprirà la fascia oraria serale e notturna dalle 20 alle 8 del mattino seguente, con 5 medici a rotazione nei giorni infrasettimanali. Nel weekend invece la copertura oraria sarà la stessa, ma verrà garantita da due medici per ogni turno. Raggiante, il primo cittadino Lanzara, che ha inteso ringraziare l'intera squadra di governo ed anche la Regione Campania e l'ASL di Salerno, che in tempi rapidissimi hanno permesso a Ponte Cagnano di riavere una Guardia Medica che il Comune ha collocato in pieno centro cittadino, con un'incidenza praticamente nulla sulle spese dell'amministrazione comunale. Assolutamente sì, c'è un'idea, un lavoro quotidiano che viene fatto che va nell'ottica appunto di dare quante più servizi possibili al cittadino di Ponte Cagnano-Feano, di assisterlo H24, con un accordo anche tra i medici, quindi anche tramite le politiche sociali c'è sempre di più una disponibilità a voler trovare risposte vere a quelle che sono le tante problematiche che abbiamo da affrontare. Si parte subito il primo febbraio e l'inaugurazione con De Luca il 25. Sì, De Luca, il governatore, a quale veramente vanno dei ringraziamenti perché riesce ad essere un politico pratico, concreto, che dà risposte anche immediate alle comunità e ai territori, verrà qui il 25 gennaio a salutare questa città che lo ringrazia davvero per questa risposta e dal primo febbraio sarà già operativa quindi la Guardia Medica. L'assessore al futuro, leggasi alla sanità del comune di Ponte Cagnano, Michele Di Muro, si spinge oltre parlando di un progetto ancora più ambizioso che prevede la copertura della Guardia Medica H24 in tempi ragionevolmente brevi e svelando pure i costi minimi dell'operazione per il comune picentino. Sì, diciamo che questa seconda parte è la parte più interessante perché diciamo per noi che siamo abituati a non fare e a non celebrarci, oramai l'apertura della Guardia Medica che è un fatto storico e oramai il passato. Il vero futuro è questo, quello di diventare il centro di riferimento per la AFT, la cosiddetta aggregazione funzionale territoriale che significa mettere insieme tutti i colleghi di medicina generale che garantiranno a turno la presenza nelle ore diurne dei giorni feriali in cui non c'è la Guardia Medica la presenza di un medico a disposizione dei cittadini, soprattutto nei buchi orari in cui il servizio non è coperto dai medici di medicina generale e spesso capita che i pazienti hanno bisogno del medico in quelle ore e non riescono a contattare il proprio medico di base, troveranno anche in quelle ore un medico a loro disposizione. È un traguardo storico perché in effetti la Guardia Medica è stata chiusa in maniera inspiegabile e colpevole 20 anni fa c'è stato un comportamento inspiegabile e colpevole per 20 anni che non so se per disinteresse o per posizioni da parte non so di chi non si è tentato di riaprire. Devo dire che noi con Tenacia dopo una risposta liquidatoria in cui dice avete il South non potete avere la Guardia Medica ci siamo seduti, abbiamo spiegato le nostre ragioni di essere una città di 30.000 abitanti col titolo di città e quindi di avere assoluta necessità della presenza di questo servizio a beneficio in verità non solo della comunità nostra ma anche della comunità in generale perché i nostri cittadini andavano ad intasare spesso il pronto soccorso del ruggi provocando quindi un aggravio ai pazienti con patologie importanti perché spesso anche con una banale influenza o un banale mal di testa la gente non avendo la Guardia Medica si legava al pronto soccorso del ruggi e non andava invece al presidio di Bellizzi. Devo dire che il commissario straordinario che ringrazio, la dottoressa Montella che è la responsabile della continuità assistenziale hanno capito subito la nostra necessità e la giustezza delle nostre argomentazioni e devo dire che ci hanno supportato nella nostra richiesta e quindi dal 1 febbraio apriremo finalmente questo servizio. Cambiamo argomento, le congreghe e il cimitero di Salerno tutto ancora tace in relazione a quello che era stato un input lanciato dal consigliere comunale Gian Paolo Lambiase secondo cui le congreghe e le confraternite non verserebbero alcun canone pur usufruendo gratis di servizi e di utenze nell'area cimiteriale del comune di Salerno. Per il consigliere comunale del Salerno di tutti, Gian Paolo Lambiase già da tempo aveva sollevato la questione delle confraternite al camposanto di Salerno l'inusuale attività privata ancora non è stata regolamentata o almeno chiarita dall'amministrazione comunale. Vediamo. Tiene ancora a banco la vicenda delle aree occupate da congreghe religiose nel cimitero di Salerno a titolo apparentemente gratuito. Il consigliere comunale Gian Paolo Lambiase aveva segnalato mesi addietro la questione puntando l'indice su confraternite e con greche che beneficerebbero, a suo dire, disgravi fiscali e semplificazioni amministrative nell'area cimiteriale. Una sorta di ZES, zona economica speciale come la definì lo stesso Lambiase, in cui non si pagherebbero tasse e neppure servizi. Il comune di Salerno aveva incassato la denuncia riservandosi di indagare sulla vicenda a distanza di mesi però tutto tace, non Lambiase. Il consigliere comunale di Salerno di tutti infatti, in attesa di una risposta da parte dell'amministrazione comunale si è preso la briga di fare un po' di conti. Secondo le sue stime congreghe e confraternite dovrebbero riconoscere al comune oltre 50.000 euro all'anno 52.940,40 euro per la precisione tra servizi, illuminazione, spese di acqua e corrente in relazione all'area del 17% circa occupata e gestita dalle stesse congreghe nel cimitero di Salerno. Sì, in effetti c'è una situazione diciamo paradossale sul cimitero perché le congreghe religiose gestiscono privatamente, tra virgolette edifici mortuari all'interno dell'area cimiteriale che è un'area pubblica, un'area demaniale e usufruiscono di servizi pubblici senza pagare niente che vengono forniti dall'ente comune ho segnalato questa cosa all'amministrazione comunale si sono messi in moto gli uffici per raccogliere i dati e quantizzare i canoni e ad oggi ancora dopo tre mesi non c'è stato nessun provvedimento nessun atto amministrativo per sanare questa che chiamo anomalia amministrativa ho raccolto io i dati ho fatto i conti si parla di oltre 50.000 euro all'anno sono notevoli le congreghe religiose che gestiscono 11.500 luoghi di sepoltura privatamente nell'area cimiteriale hanno quasi il 20% di gestione di tutti i luoghi di sepoltura nel cimitero di Salerno e quindi dovrebbero pagare canoni che riguardano corrente elettrica che riguardano pulizia dei viali riguardano raccolta rifiuti riguardano acqua riguardano custodi eccetera che si aggirano intorno ai 50.000 euro l'anno credo sia necessario indispensabile da parte dell'amministrazione comunale adottare i provvedimenti utili per riscuotere i canoni che fino ad oggi non sono mai stati richiesti si è chiesto il motivo di questa sorta di lassismo è una vicenda a cui forse nessuno aveva pensato fino ad oggi sì però da tre mesi l'avete messa in evidenza mi hanno detto che stanno ancora raccogliendo raccogliendo dati dati più precisi in attesa dei dati ci spostiamo nel Cilento e ancora sotto ciò che ci mancherebbe altro la comunità del comune di Aquara per la tragica morte del giovane di 14 anni caduto dalla finestra della propria abitazione intanto continuano le indagini per capire se si sia trattato di un gesto estremo oppure di un incidente il servizio del nostro corrispondente tragedia nella giornata di ieri ad Aquara nel Salernitano un 14enne si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra di casa come riportato da Lanza a scoprire l'accaduto il padre della vittima che ha immediatamente portato il ragazzo in ospedale ma per lui purtroppo non c'era più niente da fare a quanto sembra in casa al momento del fatto vi erano solo i genitori finora non sono stati rinvenuti i biglietti che possano chiarire i motivi del gesto non si esclude nessun movente neanche quello di una possibile delusione d'amore visto che sul telefonino del ragazzo sono stati ritrovati dei messaggi che farebbero pensare ad un amore non corrisposto sia cellulare che computer sono stati sottoposti a sequestro per le indagini si pensa anche ad un incidente dovuto a sonambulismo intanto sulla tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli diretti dal capitano Francesco Manna i primi esami mettono in risalto che molto probabilmente la morte è stata causata dalla frattura della quarta e quinta vertebra cervicale considerato che il giovane si è schiantato al suolo da un'altezza di circa 8 metri nelle prossime ore il PM procederà al dissequestro della Salma per la celebrazione dei funerali che si terranno nella chiesa di San Nicola solo le indagini e i rilievi insieme al referto del medico legale dopo l'autopsia chiariranno se si sia trattato di un gesto estremo o di un incidente sotto shock l'intera comunità e il primo cittadino Antonio Marino che esprime la propria vicinanza ad una famiglia di persone per bene e grandi lavoratori una notizia destinata a far discutere una condanna per essersi introdotto nell'area dell'hotel fin qui nulla di trascendentale se non fosse per i motivi della condanna e soprattutto del gesto che ha spinto Alessio Feniello e il papà di Stefano a violare una norma da parte del tribunale perché Alessio Feniello era il papà di una delle 29 vittime della valanga che nel gennaio del 2017 travolse la struttura alberiera di Rigopiano di Farindola l'uomo per la procura del tribunale di Pescara avrebbe violato i sigilli nell'area interdetta dell'hotel per portare i fiori per il figlio morto nella tragedia della neve abruzzese e gli è stata applicata la pena pecuniaria con un'ammenda di 4.550 euro a firmare il decreto di condanna penale su proposta del procuratore capo Massimiliano Serpi del sostituto Salvatore Campochiaro è stato il giudice per le indagini preliminari Elo Bongrazio del tribunale di Pescara come si legge nella condanna la colpa di Feniello è stata quella di introdursi abusivamente permanendo nonostante ripetute di fide e inviti ad uscire rivottigli da appartenenti alle forze dell'ordine addette alla vigilanza del sito Feniello ha mostrato la sua rabbia incredulità per questa condanna con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook minacciando che non pagherà e di essere pronto a subire due mesi di reclusione torniamo in provincia di Salerno parliamo ora di occupazione occupandoci della vertenza dei 78 lavoratori dello stabilimento Treofan Battipagli e imbiali delle industrie fermi da settimane con il presidio permanente attivo dal 22 dicembre il vertice del ministero dello sviluppo economico convocato dal ministro Luigi Di Maio rappresentato da Giorgio Sorial per la crisi dell'azienda Treofan Italy S.P.A. ceduto al colosso indiano della Gindal si è chiuso con una fumata nera a chiarire e a dichiarare l'esito dell'incontro così è stata la sindaca di Battipagli a Cecilia Francese vediamo mi dispiace dover usare dei termini abbastanza forti noi lo reputiamo l'ennesima farsa e l'ennesima dimostrazione che questa gente viene in Italia e viene a prendere in giro prima di tutti i lavoratori le strutture sindacali e soprattutto il governo e le istituzioni mi spiego meglio per chiarirci un attimo le idee allora noi abbiamo avuto di fronte a noi Mr. Kaufman che è il CEO del gruppo Gindal Treofan il signor Kaufman si è preoccupato di illustrare per bene dettagliatamente tutta la criticità del gruppo Gindal quando il tavolo era Treofan quindi hanno cercato in tutti i modi di sviare la focalizzazione del problema in più come a noi è parso queste persone erano del tutto disinformate rispetto a tutto quello che noi abbiamo a Battipaglia questi parlano di perdite non è vero i bilanci sono inattivo e sono in un trend crescente da anni ormai consolidato che io non mi stancherò mai di ripeterlo a Battipaglia ormai lo stabilimento di Battipaglia percepisce ha percepito sempre il premio di partecipazione cospicuo quindi noi a maggio prendiamo una mensilità ulteriore che è il segno della salute economica e produttiva di uno stabilimento e Battipaglia l'ha sempre presa perché i budget messi l'anno prima sono stati ambiamente superati ma già quest'anno quando siamo andati a discutere a luglio fine luglio primi di agosto avevamo già superato di oltre l'80% attenzione sono numeri e forbici che danno l'oro quindi voglio dire non è che è un numero che ci inventiamo noi però torniamo al problema quindi parlando del del fatto dei bilanci è assolutamente non vero il fatto che i bilanci siano in rosso in più parlano di un pacchetto produttivo mancante non è vero noi il pacchetto produttivo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ancora cioè perché gli ordini continuavano ad entrare prima che loro li fermavano perché c'è stata un'azione di smantellamento degli ordini gli ordini sono stati fermati a Battipaglia a Battipaglia non deve arrivare più nulla è un ordine che è partito dalla Germania dal centro di smistamento e in più quello che avevamo in pacchetto che era quello che poi ci permetteva di lavorare fino a luglio tranquillamente è stato distribuito fra gli altri stabilimenti Terno e Germania ma attenzione questa non è un'accusa nei confronti dei colleghi sia di Terno sia della Germania loro hanno avuto un ordine e l'ordine di lavorare lo devono eseguire altrimenti non fanno il loro dovere e il loro lavoro ci spostiamo nel Cilento più precisamente ad Agropoli il principio di incendio che si è temuto si è consumato alla scuola media statale Gino Rossi Vairo della Perla del Cilento ha riacceso per certi aspetti e ha riportato l'attenzione sull'assenza di un distaccamento dei vigili del fuoco proprio ad Agropoli il presidio di località Mattine è soltanto stagionale ma i cittadini gli agropolesi chiedono a gran voce la sua attivazione per tutto l'intero anno su questo ha promesso di lavorare l'amministrazione comunale mentre il consigliere del Movimento 5 Stelle Consolato Caccamo ha voluto chiedere un chiarimento sulla situazione ieri mattina il principio di incendio alla scuola Landolfi fortunatamente senza conseguenze anche grazie al personale scolastico e le insegnanti che hanno portato via i bambini e chiuso per sicurezza l'istituto e quanto sostenuto dal consigliere di minoranza del comune di Agropoli Consolato Caccamo ho pertanto formalizzato una nota all'amministrazione comunale per chiedere chiarimenti sui lavori eseguiti presso la caserma di località Mattine allo Stato impresidiata e di avere tutti gli incartamenti relativi alla richiesta di attivazione del presidio permanente spiega il consigliere Caccamo chiedendo della nota ministeriale a firma del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Giacchino Giomi con cui è stato comunicato al comune di Agropoli la condivisione della proposta di ottimizzazione del dispositivo di soccorso del comando Vigili del Fuoco di Salerno mediante un'ulteriore serie di staccata ubicata nel comune di Agropoli inoltre Caccamo fa richiesta anche della trasmissione del contratto di comodato d'uso gratuito al direttore generale dell'Agropoli Cilento Servizi si chiede invece la quantificazione e dettagli dell'intervento specifico per la messa in funzione e adeguamento dell'immobile dei Vigili del Fuoco commissionato indirizzata alla società speciale da parte del sindaco di Agropoli fa sapere il consigliere e ancora al funzionario responsabile dell'ufficio manutenzione chiedo quante e quali altri impegni di spesa siano stati adottati con specifica destinazione alla manutenzione vigilanza e custodia del fabbricato di cui in oggetto conclude così il consigliere di minoranza del comune di Agropoli consolato Caccamo e ci spostiamo nel comune di Cava dei Tirreni a nord della provincia di Salerno dove è stata avviata una petizione da parte dei cittadini per chiedere la messa in sicurezza in tempi brevi di via Gaetano 5 l'arteria cittadina che da anni preoccupa circa 5.000 residenti La problematica di via Gaetano 5 resta al centro delle polemiche nella città metelliana anche all'inizio del nuovo anno l'importante strada che dal ponte di San Francesco sale verso San Cesario e Castagneto e che rappresenta una tratta fondamentale che collega frazioni periferiche al centro cittadino è stata interessata nel 2014 da un evento franuso e ad oggi risulta dissestata ridimensionata dalle recensioni di sicurezza e sostanzialmente intasata nelle ore di punta a causa del senso unico alternato Dopo 4 anni nonostante i buoni propositi la problematica è ancora ben lontana dall'essere risolta Nei giorni scorsi il consigliere comunale di minoranza Pasquale Senatore ha avviato una petizione popolare ai sensi dell'articolo 15 dello statuto comunale per chiedere la soluzione al problema di via 5 Sì il problema di via 5 diciamo ormai l'annoso problema da tanti anni il 4 gennaio qualche giorno fa ho iniziato una raccolta di firme o meglio una petizione ai sensi dell'articolo 15 dello statuto che mi verrà impegnato sulle frazioni Castagneto San Cesario e Corpo di Cala e su alcune località come Avvocatella come Casa Davide Cesino per accogliere firme affinché questo problema venga definitivamente risolto perché non possiamo restare non possono diciamo 5 mila cittadini restare fermi così al palo nell'attendere che qualche finanziamento arrivi dalle regioni altrimenti questa strada sembra quasi come dire come un uomo rassegnato che non venga mai sistemata ed è brutto a dirsi però siamo in attesa di questo finanziamento della regione Campania così come ha detto il vice senatore l'assessore senatore altrimenti sembrerebbe che non ci siano uno spirale e questa è una cosa come dire un po' deludente da un punto di vista dell'interesse pubblico perché poi si vedono che vengono spostate delle somme circa 400 mila euro per ristrutturare lo stadio Simonetta Lamberti perché che ben vengano le universiadi però come dire noi diamo 400 mila euro mettiamo a disposizione del bilancio comunale 400 mila euro per ristrutturare lo stadio Simonetta Lamberti per svolgere le universiadi che seppur importanti però da 4 anni non spendiamo più di 50 mila euro o meglio una somma tale di 400 mila euro per sistemare viaggi civili quantomeno iniziare i lavori di viaggi civili Alla conferenza dei lavori alla conferenza dei sindaci convocata dal presidente della comunità montana Vallo di Diano Raffaele Accetta è stato deciso di affidare ad un legale il mandato per chiarire il ritiro di un autotutela del parere della commissione di via del ministero Queste ricerche non hanno nessun valore in quanto non potrà mai essere autorizzata successivamente la fase successiva che prevede la coltivazione di un pozzo e allora ecco di fronte a questo non si sono fermati e hanno avuto che cosa queste 38 osservazioni questi due pareri negativi ben sei prescrizioni che inibiscono e limitano proprio l'attività che ha dato questo comitato questo comitato ministeriale oggi loro si ritrovano con un parere via sostanzialmente che non potrà produrre nessun tipo di risultato neanche per quanto riguarda quello che hanno sostenuto nella richiesta cioè quello di acquisire altri dati per un motivo molto semplice che questi sensori dovevano essere emessi secondo la richiesta ogni chilometro quadrato in una prima fase e poi gli altri ogni 200 metri quindi circa 300 sensori che però ecco come prescrizione il ministero il comitato ha detto di non poterli mettere nelle zone vingolate e se si va a guardare l'area la piantina che è stata prodotta si vede chiaramente che come zone libere sono pochissime addirittura e questo è quello che fa pure scandalo ce n'è una che è proprio vicino alla certosa di Padula quindi immaginare che un domani possa essere fatto un pozzo nei pressi della certosa di Padula credo che insomma è un qualcosa che grida vendetta a Dì e quindi è chiaro che non è possibile e allora se loro non possono mettere tutti questi geofoni che sono questi sensori insomma che registrano delle onde sismiche eccetera eccetera e non li potranno mettere secondo quel tipo di griglia che hanno previsto del progetto è ovvio che non potranno avere quei dati che loro ritengono di acquisire per valutare la convenienza economica a installare eccetera eccetera quindi questo fa capire che sono è il solito atteggiamento truffaldino e anche un poco diciamo non lo so come definirlo che puntano ad avere una sorta di autorizzazione come in questo caso un parere che poi li mette nelle condizioni di magari cominciare a far girare anche delle persone che vengono non lo so ammettere spero che non lo facciano perché questo diventerebbe un fatto gravissimo ammettere questi sensori la seconda parte del TGI News ben ritrovati il Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni lancia la rete del gusto della dieta mediterranea si tratta di ristoratori che utilizzano un certo numero di prodotti a marchio parco ha spiegato il presidente del Parco del Cilento Tommaso Pellegrino vediamo il Parco del Cilento Vallo di Diano Alburni lancia la rete del gusto della dieta mediterranea si tratta di ristoratori ha spiegato il presidente Tommaso Pellegrino che utilizzano un certo numero di prodotti a marchio parco l'olio il vino qualche piatto della tradizione nei giorni scorsi il consiglio direttivo dell'ente ha approvato il disciplinare che composto da nove articoli mira a rinnovare la valenza della dieta mediterranea e dei prodotti che ad essa si rifanno che sono coltivati sul territorio del parco chi sottoscriverà il disciplinare prosegue Pellegrino avrà un attestato di riconoscibilità un marchio per chi viene da fuori e vuole vivere appieno la dieta mediterranea e il nostro territorio nel disciplinare si specifica che l'obiettivo è quello di creare un legame tra produttori e strutture della ristorazione in modo da fornire al consumatore un panorama completo che lo guidi nella conoscenza e nella scelta nella degustazione dei prodotti di filiera corta realizzati nell'area parco la rete del gusto coinvolgerà strutture della ristorazione che utilizzeranno prodotti a marchio parco offriranno menù con piatti ispirati ai principi della dieta mediterranea in cui saranno anche chiaramente dichiarate le aziende fornitrici possono presentare domande di adesione sia le aziende che sono interne al territorio del parco e che quelle esterne i requisiti minimi che tra le aziende di ristorazione devono possedere sono avere il menù con un minimo di eventi prodotti a marchio parco in questi devono essere presenti almeno tre etichette di vini e due etichette di olio extravergine di oliva e ancora devono avere almeno un presidio slow food almeno due piatti della tradizione locale per i ristoranti una pizza ispirata alla tradizione cilentana per le pizzerie un panino o altra pitanza della tradizione per altre strutture alle strutture che aderiranno verranno assegnate da una a tre primole tanto più saranno le primole quanti più prodotti a marchio parco ci saranno nel menù tale attività verranno valorizzate e promosse in un'apposita guida della rete del gusto della dieta mediterranea a cura dell'ente La Polizia di Stato porta a Salerno la mostra fotografica nazionale itinerante frammenti di storia all'Italia attraverso le impronte le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica La mostra ospitata presso il Tempio di Pomona all'interno del complesso del Palazzo Arcivescovile sarà inaugurata domani pomeriggio alle ore 17 alla presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli del direttore centrale della Polizia Criminale Vittorio Rizzi del direttore del servizio di Polizia Scientifica Fausto Lamparelli delle autorità civili e religiose dei rappresentanti delle istituzioni del territorio da venerdì prossimo fino a domenica 13 gennaio dalle 9 alle 19 i visitatori guidati dal personale della Polizia Scientifica potranno ripercorrere alcuni dei passaggi fondamentali della storia italiana attraverso l'esposizione allestita nella suggestiva cornice storica del Tempio di Pomona è il momento della pagina degli appuntamenti curata come sempre da Barbara Albero Al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazia a Salerno è in programma il film di animazione della Walt Disney Ralph spacca internet il film in uscita nazionale sarà proiettato alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo ti divertirai te lo prometto è il momento delle previsioni del tempo in collaborazione con a Salerno dal 1982 Ippocar officina e ricambi meccanici specialisti nell'installazione di impianti a gas GPL e metano Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato officina meccanica revisione bombole metano ricarica aria condizionata montaggio gancio traino meccatronica e diagnostica di ultima generazione ricambi elettrici meccanici batterie auto e moto e inoltre Ippocar e punto pro auto service servizio tagliandi auto in garanzia Ippocar via pietro del pezzo 55 previsioni per domani al mattino sulle coste parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti in montagna schierite alternate a nubi sparse nel pomeriggio sulle coste parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti in montagna schierite alternate a nubi sparse previsioni del tempo forniti e sabato prossimo intanto allo stadio Arechi con ingresso gratuito la salernitana sosterrà un test amichevole contro il rieti sulla cui panchina si è appena seduto il tecnico salernitano Ezio Lino Capuano per l'allenatore della formazione Granata Angelo Adamo Gregucci la gara con i laziali dovrebbe consentire di avere la possibilità di procedere a prove di vario genere in vista del prossimo match che inaugurerà il girone di ritorno contro la capolista Palermo alla Barbera venerdì 18 gennaio ma il tecnico si ritrova a fare i conti con l'emergenza a centrocampo e con il mercato soprattutto in entrata che continua ad essere silente vediamo Assenti e degenti non mancano di possibili nuovi acquisti non vettraccia puntato Adrian Soian in rotta col clodone cercato anche dal Venezia la salernitana attende il faccia a faccia con il Verona per casa sola pronto a cammeria maglia a gennaio come fece un anno fa quando lasciò l'Alessandria per trasferirsi a Salerno in mediana invece la squalifica di Castiglia e gli infortuni di Acpaugere e di Gennaro bloccano le partenze verso Catania di Palum e Mazzarani ma soprattutto riducono all'osso le possibilità di scelta di Gregucci l'emergenza quasi totale in tempo di sosta ed è tutto dire sabato in occasione dell'amichevole con i rieti del neotecnico Ezio Capuano l'allenatore è nato da purtupolare qualcosa in vista della gara del 18 genna a Palermo ma di certo tra infortuni e squalifiche tra calciatori che sono in odore di gestione ed altri che cercano ancora una loro dimensione non si sa fino a che punto l'ex assistente di Roberto Mancini potrà sfruttare a pieno il test col Trieti candidato a diventare un interlocutore forte sul mercato visto che nel Lazio potrebbero approdare alcuni di quei calciatori che si stanno svincolando dal proprio acenza tra questi Calombose già riaggregato al gruppo Granata e visto che sulla corsia destra sono in corso valutazioni ad ampio raggio per il momento potrebbe anche far comodo Gregucci pare voglia provare il 4-4-2 ma potrebbe anche evitare sul 4-2-3-1 in modo da sfruttare Rosino Andre Anderson dietro la punta centrale e magari recuperare alla casa Orlando lo stesso di Evan Anderson da proporre come esterni alti ed in questo contesto potrebbe rientrare l'ingaggio di Stoian che ha dato il meglio di sé da esterno di un tridente al di là di tutto mancherebbero i centrocampisti visto che molti di quelli in rosa non sono a disposizione o sono destinati alla partenza in estate era stato fatto un pensierino a Barberis del Clotone in scadenza a giugno come Stoian destinato a lasciare i Pitagorici sotto traccia resta aperta la pista per Minala anche se l'ex centrocampista Grata potrebbe tornare a Stoian solo a titolo definitivo avendo già usufritto dei due prestiti consentiti dal regolamento tutto dipenderà oltre che dal modulo da obiettivi ambizioni propositi programmi progetti si sussurra che la squadra sia stato dato come obiettivo l'accesso ai pre-off ed allora bisognerà regolarsi di conseguenza anche per quanto riguarda l'attacco finora anemico e poco incisivo al di là dei numeri stessi il mercato è ricominciato così come è ricominciata dalla preparazione della squadra ora bisogna rompere gli indugi senza più spiegare inutili parole buone solo a dividere e a distogliere le attenzioni generali da ciò che accade intorno e dentro alla squadra ben ritrovati la seconda parte del TG Oggi Sport è il momento della palla a mano riprende il campionato di serie A1 femminile per la Iomi Salerno impegnata sabato prossimo alla Palla Boschetto contro la locale formazione dell'Ariosto Ferrara nel match valevole quale prima giornata del girone di ritorno la Iomi è chiuso al secondo posto il girone di andata della massima serie femminile dopo il pareggio ottenuto nel big match contro Oderzo il titolo di campione d'inverno invece l'ha conquistato il Brixen in virtù del successo ottenuto contro il Leno in trasferta la compagine allenata da coach Dragan Rajcic ha comunque chiuso nel migliore dei modi l'anno centrando il successo in Supercoppa vincendo per la quarta volta nella propria storia il prestigioso trofeo record di ogni epoca bene era questa l'ultima notizia l'informazione ritorna alle prossime edizioni grazie per averci preferito l'appuntamento e una buona visione con i programmi il palinzesto di TVO Gisalea vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TVOggi On Demand e clicca su